Cari nel Signore, pace a tutti, Dio vi benedica. Ancora in questo giorno volevo condividere con voi qualcosa della parola di Dio. Volevo leggere in Giosuè dal capitolo 1 al versetto 5. E dice così, Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Meravigliosa esaltazione da parte dell'Eterno, ancora in questo giorno. E' la cosa che più mi colpisce di questo verso, dove dice Nessuno ti potrà resistere, solamente se tu continuerai a confidare in Dio. E' la cosa che ancora più oggi mi dà forza, che il nostro Dio ancora ci dice Io non ti abbandonerò, io sono con te. Dio rimarrà fedele per quello che ti ha promesso, perché come è stato con te nel passato, lo sarà adesso, nei tuoi bisogni. Dio ti benedica.